Radio Doppio Zero, Radio Doppio Zero, suona ciò che ami, più suona e più la ami. Una delle caratteristiche distintive della scuola italiana è che in questa visione come modalità quotidiana di gestione delle classi la formazione deve essere rivolta sia agli insegnanti specializzati nel sostegno che a tutti gli insegnanti curriculari. Ed è per questo motivo che il Benjamin Franklin ha organizzato un corso di formazione per docenti e oggi pomeriggio si è tenuto il primo incontro presso l'Istituto Comprensivo Modugno Rutigliano Rogadeo. Abbiamo intervistato i relatori e i responsabili del corso. Siamo con il dottor Domerio Mundo, uno dei referenti didattici del Benjamin Franklin Istituto di Bitonto al quale chiediamo subito il perché di questo corso per docenti. Come nasce questo corso? Il corso nasce da un'esigenza dei docenti del circolo didattico Cagliati e d'accordo con la loro dirigente, la professoressa Giannoccari, hanno approvato nel primo collegio dei docenti la formazione sulla tematica dell'inclusione così come suggerito dalle linee guida della formazione degli insegnanti 2016-2019. La preside ha contattato le realtà del territorio e alla fine il nostro centro di altra formazione già affermatosi sul territorio per altri segmenti formativi con diversi istituti scolastici statali e non statali è stato convocato e ha subito colto la palla al balzo essendo sensibile alla formazione dei docenti. Siamo con il professor Giuseppe Elia, il primo relatore del corso di formazione per i docenti organizzato dal Benjamin Franklin. Buonasera professore, a lei chiediamo subito, a suo parere la scuola italiana è corretto parlare di inclusione o siamo ancora abbastanza lontani? È corretto parlare di una scuola inclusiva perché non soltanto diversi documenti nazionali ma anche europei spingono nella direzione di una scuola che sia inclusiva. Tra l'altro anche le stesse leggi a partire dal 2000 in poi hanno avviato questo percorso di inclusività. Questo però non sta a significare che la scuola è già pronta ad adottare meccanismi di didattica inclusiva, di natura inclusiva. Questo necessita anche di percorsi di formazione sia i docenti che sono in servizio ma anche i futuri docenti devono essere adeguatamente preparati, supportati nella conoscenza di strategie e di didattiche che possono effettivamente favorire una inversione proprio sul piano di un fare scuola. è più una meta da raggiungere ma questo non sta a significare che non ci siano già delle buone pratiche, che ci siano già delle scuole che hanno sperimentato una didattica di tipo inclusiva e queste sperimentazioni necessitano di essere conosciute perché si possa implementare sempre di più nel nostro sistema scolastico questo tipo di obiettivo, il raggiungimento di questo obiettivo. Siamo con la professoressa Giannoccari, preside della scuola Cagliati, che è la scuola organizzatrice del corso, nonché reggente dell'Istituto Comprensivo Modugno Rutigliano Rugadeo, che invece è la scuola ospitante. Alla professoressa chiediamo il perché di questo corso. Questo corso ha il suo inizio nell'iter del piano triennale della formazione docenti previsto dal Ministero, ovvero in particolare dalla legge 107 2015, ergo obbligatorio per la scuola in generale. Nell'ambito della rilevazione dei bisogni della scuola e delle scuole, quindi anche delle scuole del nostro territorio, il piano triennale ha previsto, con delibera collegiale, ha previsto la formazione in particolare sull'inclusione. Inclusione che il DPR 66 del 13 aprile 2017, attuativo dalla legge 107 2015, ha imposto obbligatoriamente per quanto riguarda l'iter dell'inclusione, perché la legge 107 ha come fulcro l'inclusività nella scuola. Di conseguenza, attraverso sempre una delibera collegiale di inizio settembre, sia per la scuola titolare, la Caiati, che per la scuola di reggenza, la Modugno, Rutigliano, Rugadeo, attraverso, ripeto, le delibere collegiali, si è in particolar modo puntato l'attenzione sulla formazione, sul corso dell'inclusione. Suona ciò che ami, più suona e più la ami.